Devo dire la verità che io ho partecipato all'incontro ad Rogali e ne sono uscito molto entusiasta soprattutto dalle problematiche che sono emerse. Nella nostra società non sono coinvolti abbastanza secondo me i giovani quindi penso che questa sia un'opportunità per tutti noi sia appunto per noi giovani però proprio per la società di vedere i nostri punti di vista e diciamo aiutarci a vicenda. Moncore è un progetto appunto sulla mobilità dei giovani e sulla partecipazione attiva dei giovani alla comunità e io penso che questo sia un punto fondamentale perché si dice appunto sempre che i giovani siano il futuro e io credo fermamente in questo. Riteniamo che sia fondamentale l'aiuto dei giovani e l'apporto delle loro idee anche come aiuto all'amministrazione e riteniamo sia importantissimo motivo per cui la nostra intenzione è quella anche di ripensare alla consulta giovanile per farci dare una mano in più dai ragazzi. Io ci credo molto nell'unione dei giovani che unendosi sicuramente possono aiutare veramente a risolvere molti problemi. Questi due incontri che abbiamo fatto da regali sono stati molto più pratici quindi abbiamo imparato a valutare tutti i vari problemi che ci sono effettivamente all'interno della società specialmente appunto dal punto di vista dei noi giovani e provare a trovare delle soluzioni quindi fissarci degli obiettivi e trovare delle soluzioni tangibili appunto applicabili. È stato veramente importante e sono usciti fuori dei problemi di cui eravamo a conoscenza molti però altri che non conoscevamo così e non pensavamo fossero così importanti e riteniamo sia fondamentale avere questo aiuto in più per provare a impegnarci maggiormente. Il fatto che i giovani riescano a vederci a fare queste esperienze per poi queste esperienze portarle, riportarle praticamente nel proprio paese secondo me è molto importante anche per l'aiuto che possono dare all'amministrazione. Io quello che chiedo è che i giovani prendano coraggio e non abbiano paura di esporsi, che cerchino proprio di incontrarsi il più possibile.